Non sarà una cosa semplice, ma non sarà una cosa semplice, ma non sarà una cosa semplice, ma non basta volerlo davvero. Ma che bello della mia vita! Dai, ammazzate! C'era un coltello da cucina, purtroppo, e c'è il nome, a causa di una donna. Ma adesso lo sai, sono passati dieci anni. Cinque mesi dopo, l'eroe della nostra storia è morto. Colleghi e superiori mi rendono l'esercizio. Come vuoi prendere la vita così alla vicina? È incredibile. Anche lui tra poco imparerà. Non vedo molto. Perché sei così a terra? Pensato. Ma che cosa posso fare? Strumenti da lavoro? Sono stati venduti per pagare il giocatore dei bambini. Vuoi conoscere un ottimo sistema? Abbandonati! Lascia tutte le responsabilità agli altri. Andar bene anche così, se sei capace di farlo. Però per me è impossibile. Vorrei parlare con te. Alzati io! Vedi che stanno tenendo il fermo lì farai una bella figura. Non sai proprio rassegnarti alla vita. È la luce di Hokkaido. Mi scusi, ci sono i giorni. È lei! Forse è successo qualcosa di grave. Che cosa ho fatto di male? Non guarda i miei piedi! Non sei a me! Mangi soltanto! C'hai una fanta stocca! Perda, vieni. Non posso ritendere il passato! Non posso ritendere il passato! Non posso ritendere il passato! Fuori! 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 Dicono a te, no. Ci sono due. No! Ehi, uno su, cosa fai? Frega! Guadagnate il passato è stato... Guadagnate! Quanti li ammazzano anche a voi! Du"! Sei infatti! Giù! Avvermi! Lasciatemi! Guadagnati? Guadagnate? Fuori? Fuori da alluminati, si piegrede! Che vedi? Ma cosa ti è successo? Pensa che Guadagnate sia andato. Che condiffenso! Approfittando della confusione... Io ho tirato una tegola. Arresta quello lì, mi ha ticciato. Ti ha ticciato anche io, e mi hai fatto male. Ma si dà il caso, come hai saputo? Regammelo! Ti è stato portato unicamente il male di cui sono. Ti sono carico, ma posso. Già. Già, è stata una buona ragione. Fatta una buona. E se non vi credete, il signor Ono, il diretto che darà un'altra cosa. Non c'è niente da fare. Dov'è, Okaio? È qui, è qui. Cos'è successo? Shibazu, arresta Sudikichi. È l'una vera causa di tutta questa maraonda. Non d'attimo, d'attenzione. Dateci una mano anche voi. Laudio, il signor Ono. Sudikichi è un ladro, un donnaiolo. Deve rapire la sorella di mia moglie. Come? Sì, è arrivato molto dopo. Succhio, duri doverlo. Che cosa è successo? Succio tutte le coppie. Stai bene, eh? Cosa ti hanno fatto? O Succhi le ha tirato un pentolino pieno di acqua bolletta. Non c'è un po' che del cao. Almeno possiamo. No, non c'è un po' che del cao. Succio tutte le coppie. Succio tutte le coppie.